Il mio ufficio si trova all'ultimo piano Dobbiamo prendere l'ascensore Posso premere il bottone? Credo che ora sia il turno di George Premi l'ultimo, quello più in alto L'ascensore sta portando Peppa, George e Papa Pig sempre più in su Wow! Ultimo piano Scorrimento porta Questo è l'ufficio di papà Buongiorno a tutti quanti Buongiorno, Papa Pig Buongiorno, Papa Pig Il signor Coniglio e la signora Gatto lavorano con lui Oggi ho portato insieme a me due visitatori molto speciali Peppa e George È un onore per noi Cominciamo il nostro giro Signor Coniglio, vorrebbe spiegarci il suo lavoro? Certo, con molto piacere Il mio lavoro ha a che fare con i numeri Da qui prendo dei fogli di carta molto importanti E poi, vedete, con questo timbro Adesso lasso un bel segno sul foglio Wow! Che bel lavoro fa il signor Coniglio Mi scusi, posso timbrare anche io? Certo che puoi Aspetta, adesso ti trovo della carta Qui ce n'è ancora! Forse è meglio se utilizzi dei fogli bianchi Ecco a te Peppa adora giocare con i timbri Signor Coniglio, mi piace molto il suo lavoro Bambini, proseguiamo La prossima è la signora Gatto Miau! Buongiorno, Peppa e George Buongiorno Il mio lavoro consiste nel disegnare delle forme su questo computer E poi, mando in stampa le figure Wow! Ve ne faccio un'altra copia Grazie, signora Che bel lavoro fa la signora Gatto Posso farlo pure io Ciao, ciao, uccellini Stiamo andando a fare uno spaventapasseri Questo è il capanno degli attrezzi di Nonno Pig Qui c'è tutto quello che ci serve per fare uno spaventapasseri Iniziamo! Ho bisogno di due rami e di un po' di spago Li cercheremo noi! Peppa ha trovato dei rami E George ha trovato dello spago Ottimo! Adesso legherò questi rami insieme Ed ecco il corpo Nonna Pig ha trovato della paglia E un vecchio sacco Perfetto! Metterò la paglia dentro al sacco In modo da formare la testa Adesso allo spaventapasseri servono dei vestiti Qui dentro ci sono degli abiti vecchi George ha trovato un vestito Non va bene, George Il signor spaventapasseri non vorrà indossare un vestito Peppa ha trovato un cappotto Sei stata brava, Peppa George ha trovato un cappello Bel lavoro, George Questo spaventapasseri non ha la faccia Hai proprio ragione Potreste pensarci voi a disegnarla Vi andrebbe? Sì, che bello George disegna gli occhi e il naso Peppa disegna la bocca Fantastico! Lo spaventapasseri è pronto Orrà! Gli uccelli stanno di nuovo mangiando i semi di Nonno Pig Guardate, gli uccelli sono tornati Non preoccuparti, Peppa Lo spaventapasseri li farà volare via tutti Ha funzionato! Gli uccelli hanno paura dello spaventapasseri Orrà! Ottimo! Ora i miei semi non verranno più mangiati da nessuno Oh, Nonno Pig Gli uccelli adesso sembrano molto tristi Già, probabilmente hanno fame Peppa, George È l'ora del bagno Papà, mamma Abbiamo trovato la pozzanghera di fango più grande del mondo Certo, si vede Veloci, dentro la vasca Per favore, non possiamo giocare ancora qualche minuto? No, dovete andare a lavarvi E ora tu e George avrete un po' di sonno No, papà Non abbiamo per niente voglia di andare già a dormire Peppa e George non ne avranno ancora voglia Ma io sì Anche io Prima di dormire, Peppa e George fanno il bagno Peppa adora gli schizzi Anche George adora gli schizzi Si divertono un sacco dentro la vasca Dai, adesso basta, bambini Su, vi asciugliamo e vi mettiamo il pigiama Oh, non possiamo stare nella vasca ancora per un po' di tempo, per favore? Oh, il momento del bagno è finito Ora filate a lavarvi i denti Prima di dormire, Peppa e George si lavano i denti Bene, adesso sono puliti Andate a dormire Oh, secondo me è meglio spazzolarli ancora un pochino Se andate a letto, papà Pig vi leggerà un bel racconto Evviva! Peppa e George adorano i racconti Quando Peppa va a dormire, porta sempre con sé il suo orsetto Teddy Anche George, quando va a dormire, porta sempre con sé il suo dinosauro E adesso avete un po' di sonno, bambini? No, papà Vogliamo che tu legga un sacco di racconti No, dovete sceglierne uno soltanto Quale libro preferite? Il libro della scimmietta rossa Va bene, mi leggerò il racconto della scimmietta rossa Vorresti una tazza di tè? Vorresti una tazza di tè? George dà il becchime a Polly George, guarda che ne ne hai messo troppo Polly diventerà molto grassa e poi scoppierà come un palloncino Bam! Come un palloncino! Bam! Che cos'è questo suono? Il gelato! Evviva il gelato! Oh no, George non ha chiuso la porta Gelati! Gelati! È la signora Coniglio, la gelataia Buongiorno, mamma Pig Salve, signora Coniglio Quattro gelati, per favore Grazie, signora Coniglio George, ti sei dimenticato di chiudere la porta Polly sarà volata via Non ti preoccupare, sono sicuro che è ancora dentro Polly non c'è, guardate E adesso che cosa facciamo? Nonno e nonna Pig sono molto affezionati a lei Forse dovremmo provare a cercarla in cortile Guardate, che cos'è quello? Che cosa ha visto mamma Pig? E' Polly! Evviva! Ma, un momento Adesso come facciamo a farla scendere dall'albero? Non c'è problema Ci penso io a prenderla Vieni qui, Polly Vorresti una tazza di tè? Oh no, Polly è volata su un ramo più alto Oh mamma Fa' attenzione papà Non cadere dall'albero come fai tutte quante le volte Non ti preoccupare Starò molto attento Dai Polly, avvicinati Peppa, se ti piacciono le bolle Perché non vai a giocare con quelle di sapone? Sì, adoro le bolle di sapone George, andiamo a giocare in cortile, vieni! Peppa insegna a George come fare le bolle Allora, prima di tutto immergi il bastoncino Poi fai un bel respiro E soffia Una bolla! George, adesso prova a farne una tu Immergi per bene il bastoncino nel sapone Sollevalo Fai un bel respiro E soffia! George si sta impegnando molto Ma ormai gli manca il fiato Giù! George, non hai soffiato abbastanza forte Se non ci riesci puoi provare in un altro modo Immergi il bastoncino nel sapone Sollevalo E muovi il braccio Tante bolle Oh, è più divertente se ti metti a correre Aspettami! George si diverte a fare le bolle Mentre Peppa le fa scoppiare Adoro le bolle Oh no! È già finito il sapone Papà! Mamma! Il sapone per le bolle è finito Non preoccuparti Peppa Mi è venuta un'idea Mamma Pig Va a prendere un secchio per favore Va bene, papà Pig Peppa? Del detersivo? Vado, papà Pig George Tu invece portami una racchetta La vincitrice della gara è Rebecca Coniglio Evviva! Grazie mille Avrei senz'altro vinto se non mi avessi distratto Susi Calma Peppa Ricordati, l'importante non è vincere ma partecipare Sì, papino Ora passiamo al salto in lungo George e Richard devono saltare il più lontano possibile George, prendi una bella rincorsa E poi salta più lontano che puoi George, pronto? Partenza, via! George ha saltato il più lontano possibile E adesso tocca a Richard Coniglio Se Richard non prende l'aria in corsa Non riuscirà a saltare lontano Richard Coniglio, pronto? Partenza, via! Il vincitore è Richard Coniglio Evviva! George, ricordati L'importante non è vincere Ma partecipare La prossima gara è la staffetta Ciascun bambino deve scegliere un genitore con cui correre Peppa, scegli me! Scegli me! Ma, papino Tu non sai correre veloce Quando ero un piccolo maialino vincevo sempre Adesso hai una pancia enorme Però posso ancora toccarmi i piedi Quasi D'accordo, papà Ma devi correre davvero Molto veloce Le mamme e i papà faranno la prima parte di gara Poi passeranno il testimone ai bambini Mamme e papà Pronti? Partenza, via! Veloci, papà! Buongiorno, signor Toro Buongiorno a tutti quanti Devo andare Ho dell'immondizia che mi aspetta Ciao! Ciao! Il signor Toro ha svuotato il bidone della spazzatura Molto bene Ora ritiriamo le tazze della colazione Possiamo aiutarti, mamma? Ma certo, tesoro Allora butto questa bottiglia vuota nel bidone Peppa, nulli! E perché? Non buttare le bottiglie con gli altri rifiuti Il vetro può essere riciclato E che cosa vuol dire? Le cose che non si possono riutilizzare Si devono buttare tutte insieme in questo bidone Ma per quelle cose che possono essere riutilizzate Si deve fare la raccolta differenziata Nella scatola rossa si mettono i giornali In quella azzurra i barattoli di latta E in quella verde le bottiglie Peppa, la bottiglia che hai in mano In quale scatola deve essere messa? In quella verde Bravissima! È divertente! E ora tocca a te, George Puoi trovarmi un giornale per la scatola rossa? George vuole riciclare il giornale di Papà Pig Mi dispiace Ma questo non ho ancora finito di leggerlo, George Te lo darò fra un minuto E va bene Prendilo pure, ecco I giornali si devono mettere nella scatola rossa Bene Ora che abbiamo raccolto abbastanza cose Possiamo portarle al centro di riciclaggio Evviva! Andiamo! Mamma Pig porta le bottiglie Peppa e i barattoli di latta E George i giornali Siamo tutti pronti? Sì, Papà Pig! Allora partiamo! Wow! Emily è brava a giocare con le costruzioni È l'ora della pausa Evviva! Emily, non ti piacerebbe andare a giocare fuori insieme agli altri? Sì, molto! Vi va di accompagnare Emily in cortile? Certo, Madame Gazella Durante la pausa Peppa e i suoi amici giocano nel cortile della scuola Che baccano! Perché non giochiamo a chi fa il verso più forte? Va bene Ci provo io per prima Squeak, squeak Questo verso era forte Ora tocca a Zoe Zebra Adesso a Susie Pecora Ora a Danny Cane Il suo era molto forte È il mio turno! Ora ci sono io E adesso io! Il verso di Peppa è quello più forte Emily, sei tu la prossima? Devo giocare anch'io? Sì, per favore! Va bene Ci proverò Accipicchia Che verso forte! Wow! Fallo di nuovo! Emily non è più timida Senti Emily Ti piacerebbe giocare al mio gioco preferito? E qual è il tuo gioco preferito? Saltare nelle pozzanghere di fango Anche a me piace tantissimo! Peppa adora saltare nelle pozzanghere di fango Emily adora saltare nelle pozzanghere di fango Sembra un gran bel gioco Vengo anch'io! Madame Gazella adora saltare nelle pozzanghere di fango Tutti adorano saltare nelle pozzanghere di fango Madame Gazella Scusi, ma nel futuro come si vivrà? Dimmi, tu come te lo immagini? Secondo me nel futuro abiterò sulla luna E tutti i miei amici verranno a trovarmi spesso E io girerò l'universo con un razzo Ciao, ciao! Ora registreremo un messaggio che consegneremo ai posteri Dite ciao alla gente del futuro Ciao, gente del futuro Probabilmente vivete tutti sulla luna adesso E andate in vacanza su Marte E al posto delle macchine guidate i raggi spaziali Un video stupendo È quasi l'ora di tornare a casa I genitori sono arrivati Mamma, papà Abbiamo fatto una capsula del tempo Oh, papà Pig Non è che ci daresti una mano a scavare un bel fosso? Certo, con piacere Papà Pig sta scavando un fosso per la capsula del tempo Ecco fatto Possiamo tirarla fuori adesso? Oh no! Deve rimanere sottoterra per tanti, tantissimi anni Ma non voglio aspettare così tanto Pep, sei tale e quale a tuo padre quando era piccolo Davvero? Certo, me lo ricordo bene perché ero la sua maestra Era la maestra del mio papà? Sì I vostri genitori erano tutti i miei allievi, non è vero? Sì, madame Gazzella E quando avevano la vostra stessa età Fecero una capsula del tempo anche loro Me lo ricordo E la sotterrammo sotto un alberello La tiriamo fuori? Va bene Se non mi sbaglio dovrebbe trovarsi da queste parti Ora ci siamo tutti Pronti a partire? Sì, papà Pig Andiamo! Questa è l'area picnic Eccoci! Viva! Sapete adoro venire in questo posto È così pacifico, così silenzioso È Zoe Zebra insieme a suo padre Il postino della città Buongiorno signor Zebra È venuto a portarci la posta? No, Peppa Oggi è il mio giorno libero Non devo consegnare nulla Nei! Siamo qui per fare un picnic Come noi! Ma allora Perché non facciamo il picnic tutti insieme? Sì! Che splendido picnic Mamma, adesso ci possiamo alzare da tavola Vorremmo andare a giocare Va bene, Peppa Zoe Guarda, ho portato Teddy Io ho portato la mia scimmia Dinosauro Abbiamo anche questo finto servizio da picnic Perché non ci giochiamo insieme? Ecco le anatre Vengono ogni volta che facciamo un picnic da queste parti Abbiamo del delizioso tè finto E anche una torta È finta, ma è buonissima Vi assicuro che è squisita Volete assaggiarne una fetta? Accipicchia Non credo che le anatre vogliano della torta immaginaria Oh beh Vuol dire che ce n'è di più per la tua scimmia Il dinosauro di George E il mio Teddy Deliziosa La mia scimmia dice Ma hai mangiato niente di più buono Peppa George Dobbiamo rientrare Ciao Zoe Ciao ciao Siamo tutti pronti? Sì, Papà Pig Giorgio ha trovato gli occhiali di Pedro Che tontolone Ecco, tieni Grazie Pedro Come mai tu porti gli occhiali? Perché devo È quello che mi ha detto l'ottico E che cos'è un ottico? Il mio papà è un ottico Lui controlla se le persone vedono bene Come? Può vedere dentro la mia testa? No, fa un esame della vista Vuoi che ti faccia un esame della vista? Sì, fammi un esame della vista Ok Interessante Chiudi un occhio E poi dimmi cosa vedi Riesco a vedere George Ora chiudi tutti e due gli occhi Adesso non riesco a vedere niente Non riesce a vedere Davvero molto interessante Mi sa che devi mettere gli occhiali Oh, sul serio? Sì Pedro Andiamo a casa Ciao Pedro Ciao ciao Mammina Devo mettere gli occhiali Cosa? Pedro mi ha fatto un esame della vista Devo mettere Gli occhiali Sono sicura che ci vedi benissimo No mamma Perché quando chiudo tutti e due gli occhi Non riesco a vedere niente Nessuno è in grado di vedere con entrambi gli occhi chiusi Oh Che cos'è questa storia degli occhiali? Pedro conosce tante cose sugli occhiali Il suo papà è un ottico Ottico Va bene Peppa Ti porterò dall'ottico che ti farà l'esame della vista Andiamoci subito George Vuoi fare anche tu l'esame della vista? No Papà Pig sta per creare un mistero Allora Che cosa c'è sul tavolo? Il pesce rosso Teddy La scatola sorpresa E il dinosauro di George Perfetto Peppa Guardateli attentamente e cercate di memorizzarli tutti Il pesce rosso Teddy La scatola sorpresa E il dinosauro di George Riuscirete a ricordarli? Sì Molto bene Ora dovete farmi il piacere di uscire un momento Quando avrò finito vi chiamerò Sembra che stia andando di sopra dal rumore dei suoi passi E adesso sta tornando di nuovo qua Tutto a posto Potete tornare dentro adesso Uno degli oggetti non è più sul tavolo Sapete qual è? C'è ancora il dinosauro di George Il pesce rosso E anche la scatola E allora? Che cosa manca? Ehm... Teddy! Esattamente! Non c'è Teddy Ben fatto bambini! Complimenti! È stato abbastanza facile per noi Perché siamo dei famosi detective Ah! Ma questa era solo metà del mistero Dove si sarà nascosto Teddy? Oh! Non lo so Quelle cosine sul pavimento Che cosa sono? Sono briciole di torta, vero? Grazie alla lente d'ingrandimento Le briciole sono facili da vedere Chi sarà stato a mangiarsi la torta? Forse Teddy E sembra che le briciole portino da questa parte Certo che Teddy ne ha mangiato davvero un sacco Le briciole portano alla camera di Peppa e George Oh! Le briciole sono finite E ora come facciamo a trovarlo? Se vuoi puoi farmi delle domande Ma risponderò soltanto con un sì O con un no Va bene Ehm... Per caso Teddy è in questa stanza? Sì Forse sei nascosto nel letto di George? No Allora è da qualche parte più in alto? Sì Teddy era nel mio letto! Evviva! Ecco Rebecca Coniglio con il suo fratellino Richard Coniglio Sì Ciao amici! Sì 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 Ciao Sì Posso salire anch'io sulla giostra? Ma certo! Salta su! Ci faccia girare a tutta velocità! Sì Anche Richard vuole andare sulla giostra Oh! Ma se sale anche Richard Non potremo andare veloci come andavamo poco fa Lui può andare a giocare con George Richard Richard Ti andrebbe di giocare con George? No George ha un dinosauro proprio come il tuo Dai andiamo a vederlo Richard ha la stessa età di George Richard vuole vedere il dinosauro di George Oh! Dinosauro! George Richard può giocare con il tuo dinosauro? No Richard E George può giocare con il tuo? No George e Richard Non vogliono condividere i loro giocattoli George Sarà molto più divertente Se giocate insieme Sei stato davvero molto gentile George Dinosauri! George non è contento Richard Adesso tocca a George e teneri dinosauri Neanche Richard è contento Perché stanno piangendo? Cos'è successo? George e Richard si mettono a piangere ogni volta che giocano insieme E che sono ancora troppo piccoli per saper giocare Visto che voi siete già grandi Perché non glielo insegnate? Giusto Potremmo aiutarli a fare un castello di sabbia Ottima idea Andiamo nella sabbiera George e Richard adorano la sabbia George Richard Ascoltate Vi insegneremo come si fa un castello di sabbia Dove si è nascosto il cielo? Non preoccuparti Peppa È soltanto nebbia Cos'è la nebbia? La nebbia è una nuvola che sta in terra Invece che in cielo La nebbia è davvero molto fitta Non riesco a vedere niente Forse dovremmo ritornare a casa Sì Andremo al parco giochi in un altro giorno La nebbia è così fitta che non si vede il parco giochi Peppa e George devono rientrare a casa Dunque Qual è la strada di casa? Ci siamo persi Papa Pig Non ti preoccupare So esattamente dove ci troviamo Da questa parte Chi ha messo qua l'albero? Papa Pig è andato a sbattere contro l'albero Tutto a posto Papa Pig Sì cara sto bene Da questa parte Papa Pig Tu sai dove stiamo andando? Certo naturalmente Mi sa che non riusciremo mai più a trovare la nostra casa Sono sicuro che ce la faremo Siamo nel nostro giardino Oh ci sono le anatre Salve signora anatra Ha forse smarrito lo suo stagno? Anche noi ci siamo persi Noi non ci siamo persi So esattamente dove ci troviamo A presto anatre Vi auguro di trovare lo stagno Papa Pig ha trovato lo stagno delle anatre Che fortuna Sì Un vero colpo di fortuna Papino La signora anatra ti ringrazia Non c'è di che signora anatra E ora troviamo la nostra casa Sono sicuro che sia per di qua Eccoci al parco Siamo arrivati Evviva! Mamma Perché le foglie sono tutte rosse e gialle? Perché è arrivato l'autunno Peppa In autunno fa un po' più freddo E le foglie cambiano colore Si è alzato un po' di vento Facciamo un gioco per tenerci al caldo Tocca a me Ma non doveva andare da quella parte Il vento sta portando via la palla Guardate è caduta nello stagno Proverò a prenderla con questo bastoncino Allungati ancora un po' papà Mi raccomando fa attenzione Non preoccuparti Vedi ci sono quasi Papà L'acqua dello stagno è fredda Si solo un pochino Il vento ha spinto la palla fuori dall'acqua Evviva è uscita Bene Siamo molto fortunati Il vento è sempre più forte Tenetevi stritti i cappelli Oh no Il vento ha fatto volare il cappello di George Non preoccuparti Adesso papà Pig te lo riporta Corri papà Guardate è finito sull'albero Allora mi arrampicherò per prenderlo Io penso che l'albero sia troppo sottile per reggere il tuo peso È vero Ma come facciamo a tirare giù il cappello? Semplice Basterà scuotere il tronco in questo modo Forse dovrei scuoterlo un po' più forte Qui parla nonno cane Aiuto La nostra macchina si è rotta Danny Presta Dobbiamo andare ad aiutarli Che bello Pronto intervento Pronto intervento Guardate sono arrivati Danny e nonno cane Evviva! Nonno cane sa tutto sulle macchine È così grave? No È soltanto finita la benzina Cose possiamo fare? Il mio distributore è pieno zeppo di benzina Vi traino col carratrezzi Nonno cane prende a rimorchio l'automobile di Peppa Nonno cane riempie il serbatoio di benzina Mille grazie nonno cane Sono arrivate Susi e la signora pecora in auto Ciao Peppa Ciao Susi Abbiamo finito la benzina e siamo stati salvati da Danny e nonno cane Wow! Che avventura Peppa Ciao a più tardi A più tardi Oh no! Non c'è più aria La gomma è a terra Chissà se nonno cane salverà anche noi Lo spero tanto Qui parla nonno cane Sì capisco Non c'è problema signora pecora Arrivo subito Pronto intervento! Posso venire con voi? Sali a bordo Peppa Pronto intervento! Pronto intervento! Ciao Susi Siamo venuti a salvarvi Evviva! Nonno cane gonfia d'aria la gomma dell'auto La ringrazio nonno cane È una moneta! Wow! Magari si tratta del tesoro di un pirata Andiamo alla ricerca di altre cose da raccogliere, viva! Bell'idea! E poi le metteremo dentro al secchiello di George Chissà quale sorpresa ci aspetta dentro questa pozza Io qua non vedo niente di speciale nonno pig Ricordati che c'è sempre qualcosa Peppa Controlla meglio Adesso lo vedo anch'io Certo! C'è un bel granchio! Il granchio ha pizzicato il dito di nonno pig Sei un granchio davvero monello Guarda George! Che granchio! Cammina andando di lato! George fa finta di essere un granchio Anche Peppa ci vuole provare Siamo due granchi monelli Pizzica, pizzica, pizzica Pizzica, pizzica, pizzica Aiuto! Qua ci sono due grossi granchi rosa Che mi vogliono pizzicare Pizzica, pizzica, pizzica Siamo due granchi monelli Pizzica, pizzica, pizzica Show, show, show Granchietti monelli Perché non tornate nelle vostre pozze? Sì! Andiamo a vedere se ci sono altre pozze Peppa, che cosa hai trovato? È una conchiglia Prova a sentire il suono del mare Il suono del mare? Se si avvicina una conchiglia all'orecchio Si sente il rumore delle onde Wow! Sono riuscita a sentirlo! Mi piace un sacco la mia conchiglia George! Perché non ne cerchi una anche tu? Conchiglia! Quella non è una conchiglia Oh! Oggi faremo un gioco molto più bello Peppa ha portato la sua barchetta Anche George ha portato la sua barchetta Prima dobbiamo darle la carica, George La barca di George ha un meccanismo a molla Coraggio, forza! Metti subito la barca in acqua Altrimenti si scaricherà George adora la sua barchetta Mamma, dai la carica anche alla mia? La tua non ha bisogno della carica, Peppa Quella di Peppa è una barca a vela È il vento che la fa muovere Non mi piace la mia barchetta È ferma e non fa un bel niente Il problema è che non c'è un filo di vento Forse ha bisogno di un aiutino Soffierò, soffierò E vedrai come si muoverà Evviva! Andava velocissima! Peppa adora la sua barca a vela Sta arrivando un'amica, Susi Pecora Ciao, che fate? Ciao Susi Stiamo giocando con le nostre barchette Io ho portato il motoscafo Per caso funziona a molla? No, ci sono le batterie, vedi? Il motoscafo di Susi si muove grazie alle pile È davvero una bella barca Scusi, signora Anatra Arriva Danny Cane insieme a suo nonno Buongiorno a tutti! Buongiorno, Danny! Mio nonno ha costruito questo battello E me l'ha regalato Accipicchia, è davvero splendido Ma come funziona? Come quelli veri, col vapore Basta spingere questa levetta Che fantastico battello! Molto bravo, George! Ma prova a non schizzare così tanto, per favore Arrivano Rebecca Coniglio e il suo fratellino Richard Coniglio Buongiorno, Rebecca! Buongiorno a tutti! Richard, appoggiati a questa tavoletta Potrai esercitarti a sbattere le gambe George, vuoi provare anche tu a sbattere le gambe? Siete bravissimi, ma cercate di non schizzare! I bambini grandi non schizzano Noi siamo molto bravi a nuotare Quando George e Richard avranno la nostra età Nuoteranno bene proprio come noi Non è vero, Rebecca? Sì! Richard gioca con l'annaffiatoio Ehi, smettila, Richard! Accipicchia! Richard ha fatto cadere l'annaffiatoio in acqua Mamma! Mi dispiace, Richard, ma io non ci arrivo È caduto troppo in basso per me Mamma! Io non so nuotare sott'acqua Neanche io ho mai imparato a nuotare sott'acqua Tienimi gli occhiali un attimo, mamma pig Ecco l'annaffiatoio Ottimo lavoro, Peppa Pig Modestamente, sono piuttosto bravo a nuotare sott'acqua Ducare con l'annaffiatoio è da bambini Noi vogliamo salire sul trampolino e tuffarci Mi dispiace, Peppa Ma sul trampolino possono salire soli grandi Oh! Guardate! Quello è Danny cane E c'è suo nonno con lui Anche Danny e nonno cane sono rimasti bloccati Ciao, Peppa! Buongiorno, Peppa! Noi siamo stati invitati a pranzo a casa dei miei nonni Ma faremo tardi come sempre Hai visto? È già l'una in punto E sono in ritardo Fanno così ogni volta Le tue patate sono pronte? Eh, hanno bisogno di cuocere ancora per un po' Pronto? Con chi parlo? Ciao, sono Papa Pig Siamo rimasti bloccati nel traffico Non preoccuparti Siamo in alto mare anche noi Nonno esagerato un pochino con le patate Vi aspettiamo Poveri cari, a quanto pare sono bloccati Così avrò il tempo di andare a raccogliere un altro po' di patate nell'orto Non cambi mai, eh? Stiamo andando troppo lentamente Non ci arriveremo più dai nonni di questo passo Peppa ha ragione Proviamo a cambiare strada Ma cara, qui non ce ne sono segnate altre Conosco una scorciatoia Ciao, ciao, ci vediamo Noi prenderemo una scorciatoia Ci vediamo, Peppa Buona fortuna Mamma Pig ha cambiato strada per evitare la coda Ma è una scorciatoia molto accidentata È divertente Sei sicura di quello che fai? Fidati di me Ciao, Anatre Stiamo prendendo una scorciatoia Guarda, ecco la strada principale Fantastico, brava Mamma Pig Ma come? Siamo ritornati allo stesso punto Ciao Bentornati Accipicchia A quanto pare la scorciatoia non è servita molto E vive lì dentro? Certo Quella è la sua casa Guarda, sta uscendo di nuovo Buongiorno signora lumaca Senti nonno C'è anche un letto nella casa della signora lumaca Oh no, non c'è Se io fossi una lumaca Avrei un letto Avrei un tavolo Avrei una sedia Avrei un frigorifero E anche il televisore Nonno Che cosa mangiano le lumache? Ecco, mangiano soprattutto le mie verdure Ehi, smettila Briconcella Senti nonno Giorgio e io vogliamo giocare ad essere delle lumache Usate questi cestini come se fossero i vostri gusci Fatto Anche voi ora sembrate due lumachine briconcelle E adesso ci metteremo a mangiare tutta la lattuga di nonno Pig Oh, state lontani dalle mie belle verdurine, piccoli birbanti E quando nonno Pig inizia a brontolare ci nascondiamo nelle nostre casette Sono arrivati gli amici di Peppa Buongiorno, nonno Pig Buongiorno, Susi Per caso siete venuti a giocare con Peppa e con George? Sì Beh, non ho idea di dove siano finiti Sono rimasto solo con queste due lumache, vedete? Stavamo facendo finta di essere lumache Possiamo giocare anche noi? Non credo di avere abbastanza cestini per tutti quanti Però potreste far finta di essere una cosa molto interessante che abbiamo in cortile Una carata Rebecca Coniglio adora le carote Sono venuta a prendere le vostre cose per la grande svendita Ecco qua Grazie Senta, le interessa questa poltrona? Oh, quale generosità Arrivederci Arrivederci Mamma, hai dato via la vecchia poltrona di papà? Shhh, non dirglielo, se no se ne accorgerà È arrivato il giorno della grande svendita Ciao Salve signora Coniglio Peppa Che ne dici di questa poltrona? Lo so, è vecchia, ma la puoi fare a pezzi e accendere il fuoco nel camino È una poltrona antica Davvero? Il mio papà dice che vale tantissimi soldi Non l'avrei mai detto Vorrà dire che aumenterò il prezzo Arrivederci Ciao a tutti Ciao Peppa Tu che cosa hai donato, Susy? La mia maglietta da infermiera Io un palloncino con il pappagallo E io questa scimmia di pezza Oh, mi mancherà la mia scatola sorpresa Posso comprare la scatola sorpresa, per favore? Io invece vorrei la maglietta da infermiera Il palloncino con il pappagallo è mio Mamma, mamma Guarda cosa abbiamo comprato Ma sono i vostri vecchi giocattoli Ci mancavano tanto Ragazzi, guardate cosa ho comprato È una vera poltrona antica Oh, Papa Pig Quella poltrona non è antica Sì che lo è Me l'ha detto la signora Coniglio Starà bene con la mia vecchia poltrona Ovvio, papino Perché quella è... Sshh, Peppa È proprio la tua vecchia poltrona Cosa? Ma la signora Coniglio me l'ha appena fatta pagare un sacco di soldi Meravigliose notizie per tutti Siamo riusciti a raccogliere il denaro necessario Per il nuovo tetto dell'asilo Evviva! Grazie, signor Pig Oh, 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 oh È stato un piacere Mi? 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 No Oh, 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 oh Grazie a tutti.